Benvenuti a questo appuntamento con i video e l'audio nell'apprendimento e nell'insegnamento dove vengono prese in esame applicazioni relative all'impiego dell'audio e del video nella didattica. Prenderemo in esame, nello spirito della bottega didattica, dell'artigianato professionale, della professione docente, il podcast. Per podcast si intende genericamente la distribuzione di file audio, in generale file mp3, attraverso il web. In questo caso Podomatic è un'applicazione che consente di praticare il podcast in modo molto semplice, nel senso che abbiamo uno spazio dove possiamo archiviare dei file mp3 e quindi possiamo dire gestire una web radio non abbiamo la possibilità di trasmettere in diretta ma di creare degli episodi radiofonici, vengono chiamati così e quindi possiamo disporre di una sorta di web radio a scopo didattico. È un canale quindi dove noi possiamo pubblicare le registrazioni audio che possiamo effettuare con un semplice smartphone. Tutta la difficoltà consiste nel caricare questi file audio, quindi diciamo che è molto semplice da utilizzare. I file audio vanno caricati in formato mp3, è quindi una app che ci permetta di registrare direttamente in formato mp3. Possiamo personalizzare il canale graficamente, caricando immagini, modificando lo sfondo, eccetera. Disponiamo anche nella versione base, quella free, di statistiche piuttosto dettagliate e quindi possiediamo uno strumento che può essere estremamente utile sia per i docenti che per gli studenti. La caratteristica dell'account free è quella di disporre di 500 MB di spazio di archiviazione. Uno spazio non eccezionale, però sufficiente per sperimentare e mettere alla prova questo programma. Questa applicazione, questo ambiente per il podcasting. Dato che il punto di vista che assumiamo è quello delle TAC, cioè tecnologie per l'apprendimento e per la conoscenza, cioè a noi questi strumenti digitali interessano dal punto di vista della didattica, cerchiamo subito di chiedere quali possono essere gli scenari didattici nei quali possiamo utilizzare l'audio e più in particolare una sorta di web radio, il podcasting. Bene, Podomatic ci permette tantissimi utilizzi in ambito didattico. In pratica, come regola può valere che tutto ciò che si può fare con la voce, si può fare con Podomatic. E quindi, qui ho scritto un elenco piuttosto corposo, ma si potrebbero immaginare anche altri utilizzi. Pensiamo allo storytelling, l'intervista impossibile. La cronaca di eventi immaginari o la cronaca di eventi storici del passato, il racconto propriamente detto, dialoghi immaginari, i finali alternativi, i prologhi alternativi, gli spin-off in cui un personaggio secondario diventa protagonista di una nuova storia e tante altre cose ancora, nell'ambito stretto dello storytelling propriamente detto, cioè della narrazione. Pensiamo alle risorse didattiche, posso registrare una mia lezione, posso registrare una verifica orale con gli studenti, posso registrare una discussione, poi postare il file mp3 della discussione in modo che gli studenti, le studentesse lo possano ascoltare, posso inviare dei messaggi agli studenti, posso, per esempio, fornire un feedback su una loro performance, una loro prova, la radio cronaca di eventi, eventi sportivi, eventi dell'istituto, assemblee, manifestazioni, esperienze, uscite didattiche, esperimenti di laboratorio, attività di gruppo e così via, viaggi di istruzione. La recitazione, si può recitare una poesia leggendo una poesia di un autore, una poesia inventata, inventata, chiedo scusa, creata da uno studente, si possono creare audiolibri, leggere racconti, canzoni, cantare, radiodrammi, insomma, si può fare tantissimo anche dal punto di vista della recitazione, si pensi agli utilizzi nella seconda lingua di questo strumento. E poi il giornalismo, quindi reportage, inchieste, interviste a persone in mezzo alla strada o ai propri amici su un determinato tema, un radio talk, un giornale radio, un finto giornale radio, prima di sui eventi del passato, oppure sui eventi attuali o eventi che riguardano la comunità e ancora tante altre cose. Quindi, diciamo, è versatile, quanto può essere versatile la voce umana. Si tratta di registrare delle voci, ma anche dei suoni, delle musiche, eccetera. Andiamo a vedere come registrarci. Digitiamo Podomatic su Google. Ho sbagliato, ma è uscito fuori lo stesso, il primo risultato della nostra pagina. Ed ecco l'home page di Podomatic. Dovremo cliccare su Sign Up. Ci possiamo collegare anche con il nostro account Facebook. collegare e registrare, più esattamente, oppure segnare registrarci con la nostra mail. Qui dovremo inserire la mail, andare avanti, il nostro nome, la nostra mail, inserire una password e via dicendo. Io sono già registrato e quindi mi loggerò con la mia mail. Ecco qua. Adesso ci colleghiamo e vediamo l'ambiente in cui ci troviamo. Questa è la nostra area di lavoro. Qui abbiamo in alto un menu che poi illustrerò. E qui abbiamo delle altre opzioni. Possiamo uscire cliccando Logout, configurare il nostro profilo personale e configurare i settings. Cioè il nostro account e quindi le preferenze, diciamo così, del nostro account. Ma vediamo subito come si effettua l'operazione fondamentale, che è quella appunto di caricare un file in fondo. E quindi molto semplice. Vado su Post New. E qui ho queste possibilità. O aggiungere un file dalla mia media library. Io ho caricato un unico file che mi compare qui, ma naturalmente non ha molto senso. Per me è questo. Vediamo di aggiungere un nuovo file mp3. Clicco e cercherò un file. Quindi andiamo qui. File audio, lezioni, filosofia. Prendiamo una qualsiasi lezione di filosofia. Per esempio questa. Ecco, a questo punto diamo il via cliccando su Start Upload al caricamento del nostro file. Mentre il nostro file viene caricato, inseriamo qui un titolo al file. In questo caso, adesso non ricordo neanche cosa era una lezione di filosofia. Scriviamo nella descrizione qualcosa che comparirà la descrizione del nostro file. Possiamo anche aggiungere un'immagine. In questo caso sceglierò un'immagine di Socrate. Quindi andrò su Scegli file. Prenderò un'immagine. Adesso prendo l'immagine del primo che mi capita, anche se non è Socrate. Mettiamo Schopenhauer. E una volta selezionata l'immagine, clicco su Upload. E l'immagine verrà caricata. A questo punto devo selezionare la qualità del mio file mp3. L'originale non è possibile, perché richiede l'account a pagamento. E quindi o Music o Talk. Ingrandisco un po'. Se seleziono Talk avremo un file mp3 di bassa qualità, ma più piccolo. E questo mi fa risparmiare banda. Mentre se selezionerò Music, il file sarà un file più pesante, più ampio. E quindi tutte le volte che qualcuno lo ascolterà, consumerà più banda. Ricordo che nell'account Free ho una banda limitata, adesso non ricordo quanto. Più che sufficiente per gli usi didattici comunque. Quindi posso anche mettere Talk, per esempio, se non mi interessa particolarmente la qualità del suono. A questo punto ho terminato. Vedete, è caricato al 100%. Posso cliccare su Publish. Qui mi si avvisa che se voglio più banda devo passare all'account Pro. Io dico no grazie. E l'episodio è stato pubblicato. Qui mi avvisa che, vedete, ho già occupato... Ecco, vediamo un po'. Allora, lezione sulla morale socratico. Allora, lezione sulla morale socratico. Siamo a febbraio. Interrompo. Vedete, qui compare il lettore e qui abbiamo varie possibilità. Faccio ripartire la registrazione, regolo il volume. Qui posso spostarmi da un punto all'altro della registrazione, che dura 27 minuti. Posso, cliccando su questa icona, condividere questo episodio, come viene chiamato, questa trasmissione, questa lezione. Cliccando, infatti, vedete, mi compare un link che posso copiare o un codice che mi permette di incorporare questa lezione, per esempio, nel mio blog, nel mio sito, eccetera, oppure di condividerla nei principali social network. Ancora, posso scaricare questa lezione. Cliccando qui, vedete, viene scaricata. Adesso interrompiamo. Anzi, annullo proprio. E posso anche aggiungerla, cliccando su questo più, nella mia playlist, perché posso formare anche delle playlist in cui inserire, per esempio, degli episodi radiofonici, audio, che mi sono piaciuti, di altri che pubblicano le loro trasmissioni su Podomatic. E posso decidere di seguire, in questo caso sono io stesso, ma fosse un altro, di seguirlo perché mi interessa quello che pubblica. Queste sono le principali operazioni che quindi possiamo fare. Posso anche visualizzare il mio podcast, cliccando qui. Vedete i due episodi del mio podcast. Posso anche creare, questo è il podcast, diciamo così, standard, posso anche creare un podcast personalizzato, con una URL, con un indirizzo personalizzato, che visiterò adesso per mostrarvelo. Ecco, questo è personalizzato malamente da me, vedete, abbiamo lezioni di filosofia di Socrate 1, queste sono le varie prove che ho fatto, e così via. Bene, siamo tornati nella nostra area di lavoro, vediamo adesso come completare il proprio profilo, clicco su profile, e compare questa pagina, andiamo su settings, bene, qui comunità non è specificato perché non ho trovato niente che mi soddisfacesse, ho lasciato nessuna comunità, qui metterò la mia mail, posso cambiare la password, connettermi o meno con Facebook, in modo che tutte le volte che pubblico qualcosa e i miei amici su Facebook vengano avvisati. Vediamo adesso il podcast, il mio podcast. Bene, un titolo. Io per il momento ho lasciato Gianfranco Marini's podcast, un sottotitolo, posso fare in modo che titolo e sottotitolo compaiano o scompaiano, selezionando o deselezionando questa casella. vediamo le cose solo più importanti, qui una descrizione del mio podcast, devo selezionare una categoria, ho scelto Education, dei tag separati da uno spazio, i tag sono molto importanti perché rendono più semplice che il mio podcast venga individuato, è la lingua italiana. Vediamo altre configurazioni, qui non ho salvato, mi sta avvisando, ma non mi importa niente, molto semplice anche queste, quanti episodi, quanti file voi siano visualizzati nel feed RSS che i miei abbonati riceveranno, ci si può abbonare e l'abbonato riceverà automaticamente la segnalazione della pubblicazione di nuovi episodi, qui siamo su numeri stratosferici, 100 episodi, ma soprattutto i commenti. Vediamo che qui abbiamo la possibilità per ogni nostro podcast, per ogni nostro file, il visitatore può lasciare un commento, quindi noi dobbiamo dire se vogliamo meno consentire a questo, e se vogliamo che i commentatori siano registrati e logati su Podomatic, oppure siano dei semplici visitatori che possono lasciare commenti anche se non sono logati. Inoltre possiamo moderarli, e cioè i commenti prima di essere pubblicati dovranno essere approvati, in questo caso da chi gestisce il canale. Andiamo adesso a vedere come è possibile modificare la grafica del canale, basta cliccare su View my podcast page, chiediamo qualcosa, e qui in alto a sinistra abbiamo un menu, cliccando infatti su Edit Design si aprirà questo menu, qui abbiamo una palette, cliccando sui colori della palette vedete, viene modificata la colorazione dei bordi, mamma mia. Poi abbiamo la possibilità di modificare il banner che identifica in qualche modo il nostro podcast, o scegliendo uno dei banner che ci vengono proposti, vedete, o caricandone uno. Scegli file, scegliamo adesso un file qualsiasi, deve avere certe dimensioni, per cui adesso non vorrei fare pasticci, carichiamo, upload, il nostro file verrà uploadato, dovrebbe essere qui, questa cosa qui, selezionandolo, vedete, è un po' male perché la dimensione non era quella adatta. Bene, comunque è molto semplice, e qui posso ovviamente modificare lo sfondo, anche qui posso caricare un'immagine, che adesso lasciamo perdere. Terminati i cambiamenti, clicco su Save, Change, salva i cambiamenti oppure cancella, in questo caso posso anche salvarli, poi tanto lo rimodificherò. Mi soffermo un attimo sulla cosa essenziale, al di là adesso di tutte queste questioni, di configurare il profilo, i parametri, eccetera, quello che conta, che cos'è? È la lista di file audio, e quindi di episodi che io pubblico, in cui ci deve essere un'immagine, un titolo molto pertinente, quindi ben scelto, efficace, da cui si capisca di che cosa tratta quel file audio, e una descrizione che può essere anche piuttosto lunga, in cui dare ulteriori informazioni. Torniamo adesso e concludiamo, ci sarebbe altro da dire, ma insomma sono cose secondarie, concludiamo, dicendo che abbiamo anche delle statistiche, se clicco su Stats, vedremo le statistiche, quindi tutte le volte che è stato ascoltato un nostro file, i like, gli embed, le playlist, cioè in quante playlist è stato inserito, i commenti, chi mi segue, eccetera, eccetera, tutte le statistiche che possono più o meno interessare. Concluso, torniamo in alto a destra su questo menu e clicchiamo su Logout. Diciamo che si tratta di un programma, un'applicazione piuttosto semplice da utilizzare, l'unica operazione che occorre saper fare bene è quella di caricare un file. Chi volesse saperne di più, ho inserito nella presentazione questa sitografia, linkografia, dove c'è un articolo molto interessante di Annarella Perra, che illustra un caso di sperimentazione dell'uso dei podcast della didattica. È un bel webinar di Paolo Aghemo che parla proprio del podcast a scuola. E poi altri link con anche degli esempi molto migliori di quelli che vi ho fatto vedere io con il mio podcast. Metterò il link di questa presentazione nel box descrittivo che sta sotto il video che pubblicherò adesso su YouTube. Vi saluto, vi ringrazio per la pazienza e buona giornata.